E dopo la manifestazione di sabato, Suti Roller Freiheit pensa al referendum sull'autodeterminazione e alla sua attuazione. Doppia cittadinanza e stesse tutele di oggi per la minoranza italiana, esclusa invece l'uscita dall'Unione Europea. Ce ne parla Alan Conti. Il festival meranese dell'indipendenza ha messo propellente nel motore di Suti Roller Freiheit che subito rilancia gettando letteralmente il cuore oltre l'ostacolo, ovvero i ragionamenti oltre il referendum di autodeterminazione. Dopo un rapido accenno al diritto della consultazione, infatti la conferenza stampa di oggi in consiglio provinciale si dipana tutta partendo da un presupposto semplice. Al voto vincerà l'autodeterminazione. Ecco dunque gettare lo sguardo a quello che sarà degli italiani a partire dalla doppia cittadinanza. Si guarda adesso avanti perché una cosa è parlare dell'autodeterminazione, l'altra questione è come si realisce e cosa succede dopo. Perché ci sono tante questioni, per esempio che cosa succede poi anche con gli italiani. Il nostro punto è molto chiaro, noi diciamo che gli italiani domani se non appartiamo più allo Stato italiano devono avere i stessi diritti di autonomia, o forse anche di più, come li abbiamo noi come minoranza linguistica nello Stato italiano. L'ESFA poi molto spesso parla di un'automatica esclusione dall'Unione Europea in caso di referendum. Voi oggi sostenete il contrario, ci sarebbe la possibilità di rimanere? Questa è una questione che l'EU non ha mai risolto fino al giorno d'oggi perché la situazione non c'era ancora. Ci sono due aspetti, un aspetto dice che l'esclusione non è automaticamente perché per esempio i cittadini hanno già la cittadinanza europea e non si può escludere solo così una cittadinanza. Un altro aspetto è quello che dicono se io faccio un nuovo Stato devo iniziare dall'inizio e anche chiedere l'appartenenza all'EU. Ultimo aspetto, voi fate spesso riferimento alla Catalogna, ai Paesi Baschi, alla Scozia. Non vi è mai venuto il dubbio che la situazione qui sia differente? Nel senso che in quei territori lì l'indipendentismo è molto più marcato a livello popolare? Sì perché si è cominciato anche in Catalogna fino a 5-6 anni fa, non c'era questa idea di farsi un referendum. Hanno cominciato in un comune a fare un referendum, poi sono andati in tutto il paese e adesso siamo nella situazione che nel Parlamento a Barcellona tutti chiedono l'indipendenza e un referendum e noi naturalmente vogliamo creare la stessa situazione. Nella riflessione poi dovranno entrare anche la questione della transizione dei beni statali e un nuovo statuto d'autonomia, inverso e contrario. Tutto però costruito su una base di referendum vincente, dichiara matrice indipendentista, fondamenta per ora piuttosto argillose.